Salve gente, perdonate che non vai, lo vedo che va proprio malissimo in sincro, comunque bene oggi vi parlerò di Opinion Model un'altra volta, per chi non lo sapesse a me piace prendere roba da internet quando è più gratis possibile, e ho vari siti da cui prendo queste cose, cioè sconto omaggio, maggio mania, campione omaggio, desideri magazine questo qui somiglia molto a desideri magazine, nel senso che tu fai dei test, ti candidi, ti registri e se vieni selezionata per l'oggetto che sei candidato, ti puoi arrivare a casa, in questo caso è arrivata la crema della Caloderma questa qua l'ho vista non so quante volte nel suo mercato, infatti mia madre la voleva comprare, pensavo fosse molto più piccola invece è veramente un bestione, sono 400 ml, e questa qui è l'originale, cioè la classica fatta con olio di mandorle dolci e buio di caripe quella crema è che c'è l'olio da Argan, comunque allora, ha un odore bellissimo che l'ho provata prima essendo che io l'utilizzo molto quando mi depilo, perché ho la pelle secca, adesso c'è dell'effetto sulla mia coscia non so, è molto liscia, non ha, cioè, vorrei capire della sensazione, veramente bellissima le do un 7 pieno, se non un 8, quasi non più 8, vale, le do un 8 su 10, perché non attacca, non è quella cosa brutta e poi ha un bello odore, è un po' forte, però ha un bello odore e mi ricorda tantissimo l'abbrongiante cioè la protezione solare, cioè quella consistenza e quello della, adesso vi faccio vedere ecco, è molto liquida è molto liquida e vabbè, io l'utilizzo un po' per tutti, cioè per le mani, questa prima volta ancora sulle gambe, ormai sono drogata di sta cosa no, è comunque davvero molto buona la mia gamba vuol testimoniare e rispetto alla DAV, non fa quella patina grassosa perché la DAV che mi hanno spedito, che era quella tipo la DAV spa mi è piaciuta molto, perché comunque subito ti smorsa la pelle secca solo che tende, se sgarri un pochettino ti fa quella parte grassosa o scena e quindi non è molto pratica perché delle volte sono stata costretta a lavarmi di nuovo la gamba perché era troppo grassoso questa qui invece, ora l'ho messa tipo la seconda volta che la metto e devo dire che mi è arrivata oggi appena è arrivata l'ho sputistata comunque devo dire, vi consiglio questi portali, questi siti insomma, se volete, portali sembra che è un altro mondo se volete appunto risparmiare per le roba gratis tanto non vi costa niente questo qui è il sito, iscrivetevi non dovrei consigliarlo perché altrimenti se ne siete troppi dopo io non rientro e dopo io ci rimango male perché per colpa vostra non prendo la roba gratis però, insomma, ve lo consiglio lo stesso